Sono stati portati all'EMPA quando avevano poche settimane di vita questi due bellissimi cuccioli di gatto. Alcuni cittadini li hanno raccolti dalla strada, dove i micetti si trovavano in difficoltà, affamati e bisognosi di cure. A entrambi i gattini provenienti da cucciolate diverse erano stati diagnosticati i problemi respiratori. Grazie all'intervento dei veterinari della struttura, ora la patologia non trasmissibile all'uomo è stata curata. Ora stanno bene, possono essere adottati, possono andare nella nuova famiglia. A cercare case però solo lui, il maschietto. La femminuccia sarà adottata dalla signora che l'ha salvata e portata nella struttura. Il gattino, che ha poco più di tre mesi di vita, cerca una famiglia che lo accolga con amore. Chi vuole adottare questo maschietto bellissimo può venire all'EMPA ogni pomeriggio dalle 14 alle 20, dal lunedì al sabato. Si potrà relazionare con il cucciolo, successivamente potrà adottarlo.